Salve amici del Centro Meteo Italiano, weekend che inizia con tempo per lo più asciutto sulla penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 7 settembre. Nuvolosità schiarita al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio poche variazioni con addensamenti e spazi di sereno ed isolate piogge sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia. In serata e nottata tempo in peggioramento al nord ovest con piogge temporali su Piemonte e Liguria, nessuna variazione altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo specie al centro nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.